Eccoci qua finalmente da Fuerteventura, iniziamo con questo primo vlog, saliamo in macchina e andiamo a vedere un po' di cosine oggi. Sì, partiamo dal nord dell'isola che è anche la parte un pochino più vicina dove siamo. Abbiamo tutto segnato. E tutto scritto. Incominciamo. Iniziamo l'itinerario della parte nord dell'isola di Fuerteventura, partiamo subito col botto, siamo sulla costa est, ci muoveremo poi lungo tutta la costa nord per arrivare a quella ovest e partiamo da uno dei posti più famosi, siamo a pochi passi da Coraleco, siamo nel parco naturale di Coraleco, è bellissimo, c'è da dire, subito il colpo d'occhio è veramente notevole. Da una parte della strada ci sono tutte le spiagge, dall'altra parte ci sono le dune, le famose dune, è un piccolo deserto vero e proprio, l'ingresso è libero ovviamente, si può camminare, si possono fare delle belle passeggiate e noi lo consigliamo all'ora del tramonto perché l'atmosfera è davvero particolare. Proseguiamo il nostro tour, quindi da est ci spostiamo verso ovest, superiamo Coraleco e raggiungiamo questo posto, si chiama Popcorn Beach, la raggiungiamo attraverso una strada sterrata di 3 km, poco sterrata, è abbastanza facile, e arriviamo su questa spiaggia che è battuta per lo più da surfisti, il mare è un po' agitatino, ci sono diverse onde, però è chiamata Popcorn Beach perché ci sono tantissime pietre, come vedete, che assumono le sembianze di un classico popcorn. È bello il paesaggio ma è come lo vedremo sulla costa ovest, molto selvaggio. È abbastanza abbattuta dai turisti, beh la suggeriamo magari al tramonto, visto che il sole cala verso di qua, può essere un buon posto dove vedersi il tramonto o fare qualche scatto. Sentiti libera, esprimiti. Sì, devo cambiare idea rispetto a prima, mi piace questo posto. È bello, è molto selvaggio, sarà anche l'ora che sono quasi le 5, tutto il contesto che è molto bello, proprio quei posti che piacciono a me. Ma adesso spostiamoci da qua e andiamo a raggiungere la terza location di questo itinerario. Da Popcorn Beach ci spostiamo, dove siamo? Siamo a Calderonondo, che è uno dei trekking più famosi che c'è a Fuerteventura. Ovviamente noi abbiamo scelto proprio la terza location perché è tutto pacco, c'è il pacco di vento, però... È un trekking che si può fare tranquillamente, adesso lo fate insieme a noi e si sale fino in cima a uno dei vulcani più famosi e antichi di Fuerteventura. Nonostante la giornata impervia ci proviamo, il vento ce n'è, ho preso il drone ma la vedo veramente difficile. Allora, noi ci godiamo di scogliattoli, la vista, bello. Con una giornata limpida deve essere veramente un punto clamoroso, ma non ci addentriamo a fare il giro del vulcano perché comunque non c'è proprio un percorso segnalato. No, l'anello del cratere non è sentierato, con il vento che c'è anche no. Con il vento che c'è preferiamo di no, sinceramente, anche questa leggera foschia, meglio evitare. Quindi ci godiamo il vulcano e poi scendiamo. Quindi punto consigliatissimo qua a nord, se volete fare un piccolo trekking è leggero alla fine. Sì, alla fine ci abbiamo messo 20 minuti a salire. Sì, con molta calma. Con molta calma, quindi... Vorrei giustificare questa scelta perché questo è un faro famoso ma non è il punto più bello di Fuerteventura. Però l'ho scelto perché dalla Nuova Zelanda sono, devo dire, molto attratta dai fari. Sai perché? Perché sono spesso i luoghi estremi, rappresentano sempre un limite, non so come dirti, anche metaforicamente parlando. Sono spesso i luoghi contaminati, infatti qua non c'è praticamente niente. E quindi è stata una scelta un po' anche romantica. Ma quindi parlaci, come si chiama questo posto, come iniziamo questo faro? Allora, siamo all'estremità nord-occidentale di Fuerteventura e questo è il faro del Tostone. Sopra il Cotiglio, quindi non è difficile arrivarci, però guardate che roba. Là c'è l'anzarote, là c'è tutta la parte est verso Corralejo, lì c'è tutto l'interno, guarda che mare. Spettacolo. Faro appuntato sulla vostra lista, andiamo al prossimo punto. Andiamo a vedere una spiaggia qua vicino. Mi viene da dire incamminiamoci, ma ralzagniamo in macchia. Incredibile, ma vero, ma siamo già arrivati. Sì, il faro è là. Na 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 na. Quindi, seconda tappa, se venite a vedere il faro e volete farvi il bagno. Sì, Playa de los Charcos. Vedete che ci sono anche qua, come a Lanzarote, ma li troveremo i classici Coralitos. Sì, dove ripararvi in caso di portavento. Dove ripararsi dal vento. Anche se dobbiamo dire che in questi giorni, noi siamo quattro giorni che siamo qua. Sì, anche cinque. Quattro, cinque. Non c'è tantissimo vento. Quasi assenza di vento. Incredibile. Spiagge ce ne sono veramente. Sì, esatto. Tantissime. Qua è molto wild, molto free, parcheggi, scendi. Quindi... Fa come te pare, dai. Esatto. Fa come te pare. Dove ti piace ti metti, dai. Questa è la spiaggetta. Potrete trovare anche dei nudisti. Ve lo diciamo chiaramente perché non li riprendo che non posso metterli su YouTube e non mi va. Sì, allora, Lanzarote, Topless ovunque. Nudisti non ne abbiamo visti. Sì, però è molto comune la gente che si cambia così proprio alla luce del sole. Alla volevose bene. Diciamo così. Mentre qua, prima spiaggia subito. Comunque, questa è la spiaggetta, come vedete, molte meno alghe. Qua è bom. Posto appartato, vicino al faro. Direi, continuiamo. Il drone non lo alzo in volo perché l'abbiamo alzato lì e non ha senso, si vede sta spiaggia pure da lì. Andiamo un po' più verso sud. Sempre sulla costa, quindi spiagge e roba del genere. Va bene. Per chi ha visto i video di Lanzarote e adesso sta vedendo questo primo vlog da Fuerteventura e si stesse già chiedendo, ragazzi, ma è meglio Lanzarote o Fuerteventura? Aspetta, perché te lo diremo in un video più avanti. Piccolo topic veloce. Se nel video ci vedete con... Outfit differenti. Perché l'isola è molto grande e quindi abbiamo girato il video in più giorni. Tutto qua. Nessun gomblotto. Siamo in un'altra spiaggia, Playa del Aljibe della Cueva, tipo. Comunque in realtà a sud del Cotiglio, che è quel paesino là, si fa un pezzo di sterrato, perché qua mi sa che di sterrato ne faremo. E ci sono tutte queste spiagge. Molto belle. Molto belle, molto grandi. Spettacolare anche la strada, perché hai tutti i vulcani di fianco, è veramente scenografica. Mare bello. Nella spiaggia che abbiamo visto prima erano più piscine naturali. Qua il mare è decisamente più agitato. Bello però. Sicuramente chi cerca una spiaggia poco affollata e vuole starsele tranquillo direi che siamo nel punto giusto. L'unico neo è devi farti una leggera salita al ritorno, però capirai. Sì, di là vedi che c'erano più macchine, forse si scende più facilmente, però niente di... Niente di preoccupante. Tra l'altro abbiamo fatto in queste sere le nostre prime spezioni culinarie e abbiamo già trovato due posti degni di nota, quindi nei prossimi vlog, nei prossimi video, drizzate l'antenna perché vi porteremo, vi faremo vedere qualche cosa. Cambiamo location, dove andiamo? In un'altra spiaggia. Tanto per cambiare, va bene. Andiamo a vedere l'ennesima spiaggia. A proposito di sterrato, un piccolo consiglio pratico. Siccome dovrete noleggiare l'auto, adesso Chiara vi fa vedere, magari un'auto un po' alta, perché le strade a volte sono abbastanza... Impervie. Anche perché uno dei posti più belli in cui andremo, nel punto più a sud dell'isola, sono ben 20 km di sterrato. È vero che è uno sterrato molto praticato, quindi magari non è proprio così impervio, però è pur sempre uno sterrato, quindi la scelta della macchina è importante. Sembra un film già visto, perché stiamo osservando un'altra bellissima spiaggia. Questa ci sta piacendo tanto. Tanta roba. A prima vista. Tanta roba. Come si chiama? Questa è la Playa della Escalera. Vedete che c'è una scala per scendere, ma ragazzi, comunque siamo a due chilometri da quella di prima. Ci sono una serie di spiagge, fa paura a sto posto. Sensazionali. Bellissimo. Il mare è un po' meno agitato, ma comunque cristallino. Dai, limpido. Bello, bellissimo. Adesso ve lo faccio vedere un po' meglio. Dai, guarda che bello. Ma poi la seba sembra proprio fina, fina. Potrebbe valere le scale questa spiaggia. Due considerazioni al volo su questa bellissima spiaggia. Mare cristallino. Proprio l'ambiente circostante, veramente bello, siete in mezzo al nulla, quindi... Come si può vedere. Acqua, cibo, bisogna portarsi tutto. Qua non c'è manco un chiosco per prendere dell'acqua. È proprio super, super... Wild. Wild. Bello però, veramente, veramente stupendo. Allora, mi hai fatto fare già il pieno di spiagge, diciamo, oggi. E una, per fortuna, c'erano i lavori. Adesso dove mi porti? Se ne ce n'era un'altra. Allora, adesso andiamo un pochino verso quelle montagne lì, praticamente, e andiamo in un mirador. Ah, ok, come a Lanzarote. Sì, andiamo in un punto un pochino panoramico per vedere una delle montagne più care ai local di Fuerteventura, la montagna di Tindaya. Ok, dovete sapere che io non so mai niente, quindi il bello è anche questo. Lui non sa niente, cioè io parlo come se parlassi a uno che non sa neanche dov'è, praticamente. Però bello, così io scopro man mano con voi le location dell'isola. Questa è la parte ovest, a nord, che dobbiamo dire... Molto scenografico e molto bello. Intorno nel Cotiglio, veramente, veramente bello. Come piace a noi, molto Nuova Zelanda, molto Wild. Sì, esatto. Promossa al momento. Va bene, quindi il mood è questo e andiamo a questo Mirador del Rio, così concludiamo questo primo vlog. Mirador del Rio. Vabbè, Mirador, dai, io li chiamo tutti così. Io storpio tutto, se l'avete capito io storpio tutto. Andiamo a questo Mirador. Immaginatevi a Rio a 70, come sarà se a 36 è concetto così. Però sì, andiamo, questo Mirador ha un nome, ma non me lo ricordo, ve lo dico quando ci arriviamo. Siamo arrivati al Mirador, non del Rio, quello a Lanzarote. Adesso ci aspetta una breve salita, perché dobbiamo andare lassù. Sì, si raggiunge facilmente in macchina. Non è il più famoso, ma è un ottimo posto per vedere il Tindaya. Il trekking per salire sulla montagna è chiuso, però qua è un ottimo spot per vederlo. Tra l'altro non c'è nessuno. Siamo solo noi. Siamo gli unici. Eccoci sul Mirador del... Vallebron. Mirador del Vallebron. De Vallebron. Fai io darò la vista intanto, poi gli raccontiamo due cose. Che dire? Non si presenta male direi, no? Assolutamente. Cosa vogliamo dire su questo Vallebron? Allora, questo è il posto migliore per ammirare la montagna di Tindaya, che è una montagna sacra qua a Fuerteventura. Leggo. Montagna antichissima. Per gli aborigeni di Fuerteventura, in Mahos, il Tindaya era sacro, al punto che pensavano potesse avere dei poteri magici. In cima, infatti, sono stati trovati addirittura delle pitture rupestri. Quindi risalenti a migliaia di anni fa, circa 300 incisioni a forma di piede e fatte tutte in direzione del Teide e Pico della Nieves, che sono due montagne reputate sacre, una a Tenerife e una a Gran Canaria. Quindi la direzione è quella. E la montagna è quella lì? Il trekking purtroppo è chiuso in questo momento, quindi non si può fare, non ne faremo un altro domani. Se proprio volete si può chiedere addirittura un'autorizzazione, però diciamo che anche no. Bella anche vista da qua, dai. Sì, o lo vedete dal paesino là, Tindaya, che noi ci siamo passati, però lo vedete dal basso, da qua è una figata perché vedete anche tutto il mare dietro, gli altri vulcani, quindi è un bellissimo posto. Non è troppo faticoso? No, è una salita di 10 minuti, un quarto d'ora, che si può fare. Si viene su con calma. Si può fare. Bene, quindi oggi ne abbiamo già viste cosine qua a Fuerteventura. Ovviamente è tutto gratuito, eh ragazzi, nel senso che non abbiamo pagato entrate da nessuna parte, anche perché vedete è tutto molto selvaggio, molto natural e quindi arrivi e vai. Noi adesso ci andiamo a gustare un tramonto. Sì, andiamo a Puertito dello Smulinos. Stasera proviamo un ristorante italiano che qualcuno ha già visto in qualche episodio su Sky. Sì, visto che è qua vicino. Magari poi vi portiamo, però stasera lo vogliamo testare. Ah, lo testiamo stasera? Vediamo, lo riprendiamo, non si sa. Vediamo la sensazione come va. Andiamo a vederci il tramonto e poi andiamo a cena. Ebbene sì, ragazzi, siamo giunti alla fine del video. Quindi le solite raccomandazioni, trovate tutte le informazioni, oltre che su questo video, sul nostro blog faibuonviaggio.com Quindi mi raccomando, andate a spulciare che Chiara aveva scritto tantissime informazioni. Detto questo, vi invito a iscrivervi al canale, attivare la campanella per rimanere aggiornati sui prossimi contenuti. Mi raccomando, like e commenti che aiuta l'algoritmo di YouTube e supporta il nostro lavoro. E fai buon viaggio e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao, ciao! Ciao!